E così arriviamo alla fine della puntata numero 40, l'ultima del 2016 di Electric Motor News. Da parte mia un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato permanentemente e saltuariamente con Electric Motor News, questo programma viene fatto e grazie anche a voi. Un ringraziamento anche ai nostri sponsor che ci hanno seguito durante tutto l'anno e ci hanno permesso ancora di continuare in seguito alla Formula E, è un'impresa non da poco visto che si gira per tutto il mondo e ci ha permesso anche di visitare i diversi saloni dell'automobile. E un ringraziamento anche a voi, il nostro pubblico che ci segue tutte le settimane e che commenta, partecipa e ci fa crescere insieme. Questo per il momento è tutto e noi abbiamo preparato una piccola sorpresa e un saluto di fine anno, un saluto di buone feste da parte di alcune delle persone che sono in Formula E nella loro lingua originale. Da parte mia è tutto, buon Natale, buon anno nuovo con sempre un occhio di riguardo alla sicurezza e noi ci troveremo, se volete continuare ancora a seguirci nel 2017, con le prossime 40 puntate dell'anno prossimo che si svolgeranno a partire da metà del mese di febbraio. Questo è tutto e adesso i saluti delle persone della Formula E. e adesso in lingua tua, Argentina, un augurio di buon Natale, buon anno nuovo per 10 Italia e per le amici di Eletrimotor News. Bueno, le mando un saluto molto grande, un felice anno nuovo, felice Navidad e che il 2017 sia un miglior anno per tutti e che traiga molta felicità. Saluto grande a tutti gli italiani e, bene, ci vediamo pronto. Buon anno e buon anno nuovo, buon anno nuovo e buon anno nuovo. Buon anno, sono Sam Mallinson, ho il press officer della Formula E, felice Navidad e un vero nuovo anno per tutti i nostri lettori di Eletrimotor News. Buon anno a tutti i Eletrimotor News, ho i tutti i nostri lettori di Eletrimotor News. Buon anno a tutti e buon anno, a tutti e buon anno. Buon anno, buon anno, è la ultima rata del 2016 in Marrakesh. So, to all those people at DS Italy, it's a happy Christmas and a very good New Year to you all.